Ciao a tutti, sono Giovanni Sigillino, presidente dell'associazione Vox Populi Grassano. Oggi, 13 marzo 2018, siamo qui davanti al convento per proporvi una nuova iniziativa. Innanzitutto vorrei parlarvi dello spiacevole episodio successo alla villetta comunale. Appena risistemata, qualcuno ha rubato delle piantine. Ma per la villetta comunale c'è stato un lieto fine. Una mamma, insieme ai suoi bambini, hanno pensato di ripiantare le stesse piante nella fioriera. Oltre ad ammirare il gesto, noi di Vox Populi vogliamo lanciare una sfida. Adotteremo una piccola zona verde del paese un po' trascurata, piantando delle piantine e invitiamo chiunque voglia a fare lo stesso. Potete fare lo stesso anche voi. Potete condividere con noi la foto della vostra piantina usando l'hashtag Piantiamo l'acquigrassano. È un piccolo gesto, ma nel complesso ci permetterà di dare un volto più bello al nostro paese. A sentire lo più nostro. Ringraziamo in anticipo tutti coloro che parteciperanno a questa bellissima iniziativa e grazie per l'ascolto. Un saluto.